Buongiorno FTO Online, avvio sulla parità per la borsa, Fuzzimi ben cado allo 0,05%, siamo comunque con una bella tendenza rialzista avviata, i prezzi oggi si mantengono al di sotto dei massimi di venerdì, per il momento però non ci sono segnali di debolezza, solo se vedessimo le quotazioni che scendono al di sotto della metà circa dell'intervallo di venerdì, quindi al di sotto del diario 27,6 e 60, inizieremo a temere che ci possa essere una flessione volta a ricoprire il gap rialzista lasciato il 4 di novembre con una base intorno ai 27.350 punti, quindi per adesso si mantiene un'impostazione rialzista, anche se come vedremo nel proseguo del video c'è un elemento che suggerisce cautela. Questo è il grafico del DAX, sono tre giorni che sta premendo contro il massimo storico di agosto, anche questa mattina siamo a di sopra di quei livelli, come era successo venerdì, anche in chiusura era stata superata la resistenza, però vedete c'è anche il lato alto del canale che parte al minimo d'ottobre che si oppone al proseguimento del rialzo, anche qui fino a che siamo a di sopra dei 16.000 punti l'intonazione va considerata rialzista, se però area 16.000 dovesse venire violata c'è il rischio di un ritorno non solo a ricoprire il gap di giovedì scorso ma anche verso la base del canale che coincide con la media mobile esponenziale a 20 giorni in area 15.730, dove abbiamo un altro gap che è stato lasciato nella prima seduta del mese di novembre. Questo invece è il grafico del CAC 40, spesso facciamo riferimento a questo indice dal momento che graficamente si comporta molto bene, molto più netto, più facile da leggere degli altri panieri europei. Quello che si vede qui è abbastanza interessante, vi ho evidenziato il movimento all'interno dei due canali, quello principale è un canale moderatamente rialzista, il lato alto del canale ancora non è stato raggiunto, potrebbe funzionare la resistenza se questo dovesse accadere, vediamo che i prezzi sono abbondantemente a di sopra dei massimi di agosto e c'è quest'altro canale ribassista che è stato disegnato tra agosto e settembre, all'interno del quale sono sviste queste tre fasi di mercato, prima un ribasso, poi un rimbalzo, poi un nuovo ribasso, l'ampiezza dei due ribassi, visto che sono contenuti all'interno del canale, è sostanzialmente uguale. Dopo cosa è successo? Abbiamo visto un rimbalzo, un ritorno che ha riportato i prezzi praticamente sul punto di partenza e questo bel movimento rialzista. Facciamo un po' il punto della situazione. Voi sapete che le fasi correttive si sviluppano in tre segmenti, quindi abbiamo visto il rialzo, poi ci sono stati questi tre segmenti di correzione che sono quelli contenuti all'interno del canale, quindi questo è il canale che contiene i nostri tre segmenti, quindi le due linee parallele, poi i prezzi hanno superato i massimi di quest'estate e sono saliti. Come hanno fatto a salire? Prima c'è stato un primo movimento di rialzo, poi una flessione che ci ha riportato praticamente sulla base del primo movimento e poi una bella accelerazione che ha permesso il superamento dei precedenti massimi. Le ipotesi che si potevano fare erano due, ovvero sia che questa fase fosse solo il primo elemento di una correzione complessa seguita da un secondo elemento sempre di una correzione complessa che sarebbe stato questo e c'era poi il rischio di vedere un terzo elemento correttivo. Però sappiamo che nella correzione tipo flat di solito i prezzi non si spingono oltre l'origine del primo movimento, quindi il fatto che sono andati oltre questa resistenza ci fa capire che probabilmente non si tratta di un flat. L'altro elemento da prendere in considerazione è che questa fase che si sta sviluppando attualmente sembrerebbe un movimento in cinque segmenti o perlomeno diciamo che se fosse un movimento in tre segmenti potrebbe essere ancora la fase intermedia di una correzione se non ci fossero spinti così lontani da questa resistenza ma l'impressione è che invece si tratti come vi dicevo di una fase in cinque segmenti quindi avremo a questo punto magari sul lato alto di quel canale che vi facevo vedere prima il rischio di una correzione, poi però il proseguimento del rialzo. Quindi se andiamo a riprendere il nostro grafico del CAC 40 vedete questa fase in tre potrebbe essere la correzione ormai completata di tutto il rialzo che c'era stato prima e qui potrebbe essere partita la fase in cinque segmenti. Diciamo che fino a che ci manteniamo di sopra di area 6.900 resta valida questa interpretazione e se questa interpretazione è corretta vuol dire che per tutti gli indici, non solo per il CAC 40 la fase correttiva è terminata quindi anche per il nostro Fuzzimib e per il DAX che questa fase correttiva partita dal minuto d'ottobre è terminata scusatemi che quella partita dal massimo di agosto è terminata e che questa partita dal minuto d'ottobre non fa più parte della fase correttiva ma è una tendenza rialzista a sé stante. Quindi dando questo tipo di interpretazione verrebbe da pensare che visto come si è comportato il CAC 40 anche il DAX abbia a questo punto la possibilità di rompere il suo, superare il suo ostacolo e di salire ben oltre i livelli attuali. Vi ho menzionato però un elemento che induce la prudenza se andiamo a prendere il nostro grafico del Fuzzimib e andiamo a guardare l'indicatore RSI a 14 giorni che è il classico indicatore che viene utilizzato per capire se c'è una situazione di ipercomprato o ipervenduto vedete quando la linea sale sopra il 70% cosa che accade raramente quando si sale di sopra il 70% di solito poi si verifica una fase di stallo vedete che è successo qui nel mese di giugno è successo qui nel mese di agosto e adesso siamo non solo di sopra il 70% ma se andiamo a guardare con il valore del 75% circa siamo ai massimi dalla fine del 2020 è vero che quando era accaduta una situazione simile a novembre-dicembre 2020 come vedete l'indicatore era stato per un paio di settimane in ipercomprato prima di ritornare in zona neutrale segnalare la fine di questo bel rimbalzo che c'è stato ai minimi d'ottobre però ecco diciamo che guardando l'indicatore viene da pensare che la parte maggiore del rialzo ormai si ha alle spalle e che se anche si andranno a registrare i nuovi massimi questi non saranno molto lontani dai prezzi attuali se andiamo a guardare questo è il grafico giornaliero anche il grafico elementi settimanali vedete scopriamo una situazione simile in questo caso il nostro RSI è ai massimi addirittura dal dal aprile del 2014 quindi vedete era dall'aprile del 2014 che l'RSI non si spingeva così in alto qui aprile del 2014 è vero che dopo il raggiungimento di quel piccolo indicatore c'è stata una correzione poi abbiamo anche visto un rimbalzo che ha fatto registrare nuovi massimi però dopo circa un mese e poi ancora una volta una nuova fase ribassista tutte le volte vedete che l'RSI a 14 settimane è sconfinato in zona di percomprato c'è stata o una pausa ma a parte questo caso qui in cui praticamente ci sarà solo mosse lateralmente una marginale flessione negli altri casi c'è sempre stato un movimento di correzione abbastanza importante quindi è vero che la teoria ci insegna che fino a che l'indicatore non torna in zona neutrale non c'è da considerare attiva una fase di correzione quindi solo se dovessero vedere l'indicatore che ritorna al di sotto del 70% nel caso dell'indicatore settimanale quindi questo vuol dire che bisognerà avere almeno tutta una settimana di ribasso quindi c'è sicuramente tempo per accorgersi che le cose sono cambiate però ecco diciamo che anche in questo caso guardando il grafico settimanale verrebbe da dire che è più probabile che la parte maggiore del rialzo ormai sia alle spalle tra l'altro i prezzi hanno anche violato al ribasso questa linea di tendenza che invece sul grafico dell'indicatore che invece sul grafico dei prezzi ancora funziona da supporto molto spesso la linea sull'indicatore il comportamento dell'indicatore attorno a una letteralità di questo tipo anticipa quello che poi succede sul grafico dei prezzi quindi ancora non è il momento diciamo di uscire dal mercato però in una situazione di questo tipo sicuramente io avrei paura a prendere a intraprendere operazioni che vadano oltre il breve il brevissimo termine vediamo se il Nasdaq che ha performato benissimo settimana scorsa è in una situazione simile se mettiamo il nostro RSI a 14 sedute vedete che è in una situazione di netto ipercomprato se andiamo a guardare con il 78% 78% che è il livello toccato adesso dall'indicatore e torniamo indietro nel tempo per ritrovare l'RSI così alto bisogna risalire al settembre dello scorso anno vedete in quell'occasione c'era stata effettivamente con l'RSI così elevato l'avvio poi di una fase correttiva ci sono dei casi che possiamo evidenziare come questo in cui ad un RSI così elevato era corrisposta inizialmente una piccola fase di flessione poi un rimbalzo poi una nuova fase di flessione e poi si era sviluppata una divergenza quindi questo processo aveva impiegato alcuni mesi per completarsi si era sviluppata una divergenza tra indicatore e prezzi e c'era stato poi il definitivo crollo quindi potremmo essere solo all'inizio di una fase preparatoria di ribasso però in ogni caso anche qui vedete quando l'RSI ha toccato questo picco c'era stata una prima fase di ripiegamento se andiamo a prendere anche questo caso il grafico settimanale vedete qui siamo appena usciti dall'ipercomprato quindi siamo solo al 72 71 72% potrebbe volerci ancora 1-2 settimane prima che si cremi i presupposti per una correzione però anche qui se si guarda il grafico settimanale pensare ad andare a comprare su questi livelli sicuramente se si va oltre l'orizzonte di breve brevissimo termine è una operazione azzardata prima di passare in realtà volevo ai singoli titoli guardare insieme a voi questo grafico che è molto interessante il rapporto tra i tassi USA a 10 e a 2 anni quelli a 10 anni ovviamente sono quelli più alti questi qua siamo scesi intorno al 1,45% e quelli a 2 anni invece sono questi siamo intorno allo 0,40% questo in alto è il grafico di forza relativa che può essere visto esattamente come uno spread il grafico di forza relativa viene generato dal rapporto tra le due curve ma se facessimo la differenza tra i 10 e i 2 anni e i 2 anni avremmo una curva esattamente uguale a questa ovviamente cambierebbe la scala notiamo che c'è stata una fase decisa di crescita dello spread tra i 10 e i 2 anni fino a inizio anno con il mercato che evidentemente aveva grosse aspettative di aumento dell'inflazione poi c'è stata una fase in cui i due tassi si sono mossi praticamente all'univoco diciamo sostanzialmente poi ultimamente c'è stata una fase di compressione tra le due curve e proprio negli ultimi giorni abbiamo visto una nuova impennata però abbastanza limitata quindi diciamo che guardando questo grafico viene da pensare che effettivamente le aspettative cioè anche il mercato si sta convincendo che quello dell'inflazione potrebbe essere un problema solo temporaneo del resto sul grafico del 10 anni vedete che questo qui in blu si è appena completato venerdì questo testaspalle ribassista quindi abbiamo visto i prezzi che erano tornati intorno all'1,7% che era un massimo di molti mesi ma in due settimane la situazione si è decisamente sgonfiata e siamo tornati al di sotto dell'1,50% quindi potrebbe essere che effettivamente l'inflazione non faccia più paura se dovessimo violare anche questa linea che passa 1,41 1,42 la situazione verrebbe riassorbita in uno stato diciamo di normalità quindi tensione sui tassi di interesse potrebbero effettivamente essere rimandate a un periodo decisamente più lontano dell'attuale e la borsa in questa situazione ha di che festeggiare perché ovviamente tutti gli ultimi momenti di incertezza che poi non hanno danneggiato tanto l'andamento delle quotazioni soprattutto degli indici americani però diciamo che sicuramente un tema molto dibattuto al mercato era questo dell'inflazione ma guardando questo grafico dei tassi verrebbe da pensare che ormai sia stato riportato in secondo piano vedremo se effettivamente così ma se sarà effettivamente così gli impedimenti per un proseguimento di rialzo magari dopo la correzione dettata dalla necessità di fare scaricare l'RSI e farlo riportare in zona neutrale le prospettive di proseguimento di rialzo sembrerebbero rimanere nella parte video dedicata agli utenti Patreon volevo guardare alcuni titoli del Nasdaq sulla newsletter giornaliera giornaliera che dedichiamo sia agli utenti di Financial Trend Analysis del sito FTA Online che a chi ci supporta su Patreon FTA Online nella newsletter giornaliera ci sono anche queste tabelle che riguardano la selezione settimanale in ottica di investimento in medio periodo sia sui titoli del mercato italiano sia su quelli del Nasdaq e ho fatto una selezione di alcuni titoli appunto dal mercato americano per andare a guardare qual è il loro quadro grafico questa tabella relativa al mercato italiano vedete la performance dei rendimenti dei tre portafogli da inizio anno del 36% perché sono divisi per tre profili di rischio e del 36% contro un Fuzio Share che invece si è rivalutato del 20% circa quindi diciamo che il portafoglio sta andando abbastanza bene e vi ringrazio per l'attenzione vi auguro una buona giornata vi do appuntamento a giovedì per il nostro consueto commento giornaliero nei prossimi due giorni il servizio invece non sarà attivo a giovedì a giovedì